Sarà ancora Luca Diorio il commissario liquidatore di teatro e servizi, la partecipata del comune, socio unico che ha in mano tutta la riscossione dei principali servizi in città. Stamani un'ora di faccia a faccia con il sindaco Ferrara, con l'assessore Raimondi e con il collegio sindacale, così il primo cittadino al termine dell'incontro. Il dottor Diorio ha accettato un adeguamento dei contratti di servizio a quanto il comune dovrà rimarcare dopo il dissesto con la redazione del nuovo piano di bilancio previsionale stabilizzato. Quindi sostanzialmente daremo l'organo politico dell'amministrazione era ed è convinto di poter dare atto a questi contratti di servizio subordinandoli, quindi al 2024, subordinandoli all'approvazione del piano di bilancio, al bilancio previsionale. Sindaco, questa vicenda della teatro e servizi significa anche tanti lavoratori, tante famiglie. Verrà garantito loro il posto di lavoro? Assolutamente. Questa amministrazione per sua stessa composizione, oserei dire, non è una bestemmia ideologica, è sempre vicina ai lavoratori e vicina ai sindacati che li rappresentano. Però non vorrei che erroneamente si pensasse che l'amministrazione, appunto il comune, voglia questo solo per i lavoratori. Loro sono un obiettivo importante, i loro posti di lavoro, ma anche l'obiettivo è quello di far funzionare bene teatro e servizi, perché fondamentalmente tutte le città, quindi compresa Chieti, vive e può dare servizi solo se incassa i tributi e quindi noi già siamo a una percentuale molto elevata di non incasso e quindi teatro e servizi deve funzionare bene. E infine, per ultimo, ma non per ultimo, i creditori nei confronti di teatro e servizi del comune che devono essere ristorati del loro dovuto. Un'ultima cosa, vi rivedrete a breve, Sindaco? Sì, noi ci dobbiamo rivedere martedì. Ci rivediamo martedì.